Mancano ormai soltanto tre settimane all'inizio dei giochi della 31esima Olimpiade che quest'anno avrà luogo in una delle città più belle del Sud America. Riflettori puntati sul Brasile dove si concentreranno le atlete più sexy di Rio 2016. Partiamo dalle surfiste con Anastasia Ashley e Alana Blanchard, entrambe bellissime americane abituate a far impazzire gli uomini che le guardano scivolare sulla tavola. Anche il calcio femminile regala spunti interessanti. Alex Morgan, statunitense, una delle atlete più seguite su Facebook, e Lauren Sesselman, procace stangona bionda, conta oltre 2 milioni di seguaci. Passiamo alla pallavolo. Tra le atlete più sexy di Rio 2016 annoveriamo sicuramente Thaisa de Meneses, la brasiliana che aspetta solo di vincere le Olimpiadi dopo aver ottenuto risultati grandiosi sia con il suo club che a livello internazionale. E che dire di Lerine Franco, specializzata nel lancio con il già nell'otto, la 34enne paraguaiana si diletta anche come modella. La colombiana Mariana Payone, una vera leggenda della BMX femminile, una sportiva tutta pepe ed è stata scelta come porta bandiera del suo paese. Infine troviamo Paola Pliego, spadaccina messicana molto sexy, apparsa senza veli sulla cover del magazine ESPN. Tenete d'occhio anche la golfista inglese Sophie Horn e la campionessa australiana di corsa ad ostacoli Michelle Yennecke.